...fino a questo argomento sulle di quanto riguarda le aree del Capodariello, di quanto riguarda le aree del S.A. e di quanto riguarda le aree del S.A. Non avevo risposto alla consigliera, ma per quanto riguarda le aree del S.A. penso che tutti quanti ci siamo in crescita. Cosa sono le aree del S.A.? Le aree del S.A. possono rappresentare una ricchezza per il territorio o possono rappresentare una ricca dignità per il vostro territorio. E allora, se vengono in uterini, sempre con le aree del S.A. sicuramente non apportano nessun valoreggiore. Anzi, come ha accennato il professor Iorio e anche il professor Tarfella, vuol dire che ci deve essere un costante contorno sulle stesse. Ma noi non vogliamo questo. L'abbiamo dimostrato con un luogo commerciale. Noi vogliamo che le aree del S.A. diventino una ricchezza per il nostro territorio e fanno sì che ci sia sviluppo, economia ed occupazione con un obiettivo comune, che i nostri giovani non devono più abbandonare la nostra casoria per farsi una famiglia incerta di lavoro. I nostri giovani possono riappropriarsi nel proprio territorio per condurre con la mani alla massima serenità la loro vita, le loro attività, la loro professionalità e tutto ciò che sta a quello di allora queste aree di spese. A prescindere dal luogo commerciale che partirà tra qualche settimana un massimo tra qualche mese, perché tutte le procedure sono state completate e darà un lavoro a quasi 300 risorse che io spero, anzi ne sono 100 e saranno sicuramente la maggior parte risorse di casoria anche le altre aree di spese dovranno trovare quelle soluzioni in sintonia e in armonia con la qualità della vita dei nostri concittadini. Grazie. Grazie. Applausi, grazie. E quando faccio un po' di domande, questo è il mio limite, sono i giovani, tutti i giovani, il tempo, ovviamente non gli età. Ma lei non mi ha risposto qual è la progettualità che si è stata distiegata in questi tre anni per quanto riguarda questi anni spese. Lei ha parlato giustamente dell'ologo che dovrebbe approcciato all'anno prescindicamente a questa attestazione. Non si fa politica, non stiamo facendo politica, sto semplicemente chiedendo, proprio per tranquillizzare i nostri cittadini presenti, quali sono già i progetti in alto su queste aree? Lei vi parlava appunto dell'Oculo, che è una cosa antecedente che adesso sta nelle fasi finali di sviluppo e di realizzazione. Quali sono i progetti che lei ha presentato a proposito di queste aree? Probabilmente sono stata io un po' più chiara per farmi la domanda precedentemente, spero di essere stata più chiara adesso. Grazie. 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 Grazie.